Scossa all'interno di Confartigianato Como. Dopo 22 anni Alberto Crippa lascia l'associazione. Crippa, artigiano Brianzolo, è un personaggio noto a Como non solo per la sua attività all'interno di Confartigianato, ma anche perché rappresenta la categoria all'interno del Consiglio della Camera di Commercio, in carico per il quale era stato disegnato dalla stessa Confartigianato. Con una lettera indirizzata al presidente Marco Galimberti, Crippa ha rassegnato le proprie dimissioni. rimarrà comunque nel Consiglio Camerale in rappresentanza degli artigiani. Ho dato le dimissioni giovedì scorso al presidente e ai delegati, ha dichiarato Alberto Crippa al Corriere di Como. Con tutta onestà sono andato via per motivi personali che spiegherò a chi di dovere se mi verrà data l'opportunità. Non ho però sbattuto alcuna porta, ho una filosofia di vita molto chiara, non mi ritrovo più in un ambiente in cui ho vissuto per anni e quindi ho scelto di andare via. Crippa aggiunge che non condivideva più alcune scelte gestionali di Confartigianato, nei giorni scorsi era stato visto a un convegno organizzato dalla CNA, l'associazione concorrente, ma Crippa precisa di non cercare nuove sigle e che all'incontro ci sarebbe andato comunque, anche se non si fosse dimesso da Confartigianato.